Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Grazie moltissimo per essere con noi stamattina. Carlo Smuraglia, come vi dicevo ho detto prima, è un signore che sta per compiere 99 anni. Complimenti e auguri, caro Smuraglia. Grazie. Che la resistenza l'ha fatta. L'ha fatta, sa sulla sua pelle che cosa è stata. È stato presidente dell'Ampi per lungo tempo, ha rappresentato quindi l'Associazione Nazionale dei Partigiani. E la domanda che io le faccio subito è questa. Un popolo che resiste contro l'invasore, qual è l'Ucraina? Va aiutato anche con le armi, secondo lei? Secondo me va aiutato in tutte le forme possibili. Chi esercita la resistenza contro la prepotenza, il potere, va aiutato, va sostenuto. Quindi va sostenuto in tutte le forme possibili. E io non escludo neanche le armi quando è necessario perché di armi, per esempio, nella nostra resistenza abbiamo avuto grande bisogno. Ce le hanno fornite gli alleati che ce le mandavano addirittura attraverso gli aerei. Ed era una festa quando un aereo di notte buttava giù un pacco e dentro c'erano delle armi di cui avevamo assoluto bisogno. Quindi io capisco che c'è bisogno di armi e c'è bisogno di riceverle comunque sia per poter fare una vera resistenza. Ma allora scusi, scusi Muraglia, ma lei qui si ritrova con quei stampi, quei stampi che ripiudia l'invio di armi, quei stampi che dice né con l'Ucraina né con la Nato, quei stampi che oggi in piazza non espone nessuna bandiera ucraina. O pensa che l'Ampi sta sbagliando e che c'è qualcosa che non funziona nella posizione che sta assumendo l'Ampi in questo momento? Ci possono essere delle posizioni discutibili non dell'Ampi come tale, ma di questo che è il soggetto dell'Ampi. L'Ampi come tale ha una linea molto chiara, molto precisa, che è quella di impegnarsi nel valorizzare la resistenza, nel continuarne l'opera anche nella vita quotidiana, perché si resiste ogni giorno anche contro la prepotenza e col potere dei più forti. E in questo senso l'Ampi mi pare che sia compatta, al neale di alcune idee o manifestazioni personali che non sono quelle attribubili all'Ampi come tale, che invece rappresenta e intende rappresentare semplicemente la resistenza come tale, come lotta contro un nemico che bisogna combattere e abbattere se possibile. Lei infatti sulla resistenza come tale ha detto che secondo lei gli ucraini stanno facendo una resistenza in questo momento, che è giusto chiamare la resistenza, qual è gli ucraini? Eppure lei sa che molti si sono invece arrabbiati di questa equiparazione tra la nostra resistenza e la resistenza degli ucraini. Lei la considera un paragone sbagliato? No, non bisogna sottilizzare su queste cose. La resistenza è un fenomeno molto complesso. Alcuni lo risolvono soltanto con il riferimento alla resistenza in armi. Personalmente io ho fatto la resistenza in varie forme possibili, nel senso che quando dovevo essere richiamato alle armi e non volevo andare con i fascisti, mi sono dovuto nascondere, è stata la mia prima forma di resistenza, nascondermi, aggregarmi con altri che erano nascosti anche loro, poi organizzarsi, secondo passaggio, organizzarsi e formare dei gruppi di vera e propria resistenza, successivamente procurarci le armi e essere anche armati, e infine a me personalmente non è bastata questa resistenza e ho creduto che quando è stata liberata la mia zona mi sono arruolato volontario nel corpo italiano di liberazione che stava risalendo la penisola, perché mi pareva che bisognasse fare tutto il possibile per chi desiderava la libertà, perché la libertà si conquistasse anche con le armi. Allora, mi sembra che questo sia molto interessante, no? Sento al vostro...